Noi siamo qui insieme a tutti i nostri amici fin quando qualcuno non ha la brillante idea di usare l'app di Smurf Cat Eccolo, sta per fare la chiamata Smurf Cat Ok, vuole parlare con Smurf Cat Ma lui è molto cattivo e sta per rispondere al telefono ragazzi Io non so che cosa succederà Ma mi hanno detto che questo Smurf Cat è molto aggressivo Lui vuole fare delle domande a questo Smurf Cat Tutti noi vogliamo farle Così lo stiamo chiamando, ci sta rispondendo, ci sta dicendo sì Pronto, chi è? Smurf Cat Noi siamo tuoi amici? No Lo Smurf Cat ci ha risposto di no Questo vuol dire che già lo Smurf Cat vuole ucciderci Ora gli abbiamo chiesto quanto fa 9 più 10 Ma non lo sa, è completamente andato in errore E adesso gli stiamo chiedendo se può rispondere a questa semplice domanda Se sì o no Gli stiamo chiedendo se Smurf Cat è capace di guidare E lui ha risposto Miau Quindi praticamente non vuole neanche risponderci correttamente alle domande Gli abbiamo chiesto Smurf Cat Io ti piaccio? E lui ci ha risposto no Non mi piaci Questo Smurf Cat è aggressivo E potrebbe venirci a prendere Vuole farci uno scherzetto Gli stiamo dicendo se lui è segretamente un diavolo E lui ci ha risposto sì Con il punto interrogativo Oh mio Dio Oh mio Dio L'applicazione L'applicazione sta andando completamente Si sta completamente autodistruggendo Sicuramente quello Smurf Cat Ma guarda il telefono quanto è grosso È davvero enorme Hai ragione È un iPhone 18 Pro Max Sicuramente Giulia Questo Smurf Cat nasconde qualcosa di davvero inquietante Ok Rientriamo dentro per la cena Ci sta dicendo la nostra bambina Questa bambina intanto sta piangendo Sta piangendo per lo Smurf Cat Perché lui voleva essere amica dello Smurf Cat E invece è stata presa in giro Perché questo Smurf Cat in verità è cattivo E vuole mangiarci tutti quanti Qui per fortuna però c'è della pizza Oh no Stanno per arrivare le 3 di notte Lo Smurf Cat ha detto che non è il nostro amico Giulia io ho tanta paura che ritorni Ok dobbiamo andare a dormire Giulia È l'ora della nanna Sì dov'è il mio letto Qual è il mio letto Io ne prendo uno così Eh mi dispiace Ci sei messo questo Guarda mi sta anche dando fastidio Sono passati 30 minuti da quando ci siamo messi a letto E improvvisamente qualcosa ci ha svegliato Tutti quanti siamo sveglii Sono le 3 di notte e lo Smurf Cat ci sta contattando Che cosa dobbiamo fare ragazzi Che cosa dobbiamo fare Sei lì Smurf Cat Yellow sta parlando con Smurf Cat E gli chiede se è qui Dice che sta per arrivare Oh no si è aperto un portale Ci sta risucchiando come un buco nero Ci sta risucchiando direttamente nel bosco dello Smurf Cat Proprio da dove lui viene No lasciaci in pace Smurf Cat Vogliamo vivere per ancora un po' Questo Smurf Cat farà cose terribili con noi Mi raccomando ragazzi restate con noi e cercate di aiutarci Perché questo Smurf Cat vorrà mangiarci sicuramente Eccolo qui Siamo all'interno della casa dello Smurf Cat Questo è un inedito È un inedito della casa dello Smurf Cat Non ti sedere sopra lo Smurf Cat Potresti infastidirlo Guarda già ti sta guardando male Ciao Smurf Cat Io me ne andrei da questa casa Serve una chiave gialla Allora dobbiamo subito esplorare la casa Per trovare la chiave gialla Smurf Cat riportaci dalla nostra mamma Ti prego Cosa? Cosa ha detto lo Smurf Cat? Vuole ucciderci? No aspetto le luci Oh no lo Smurf Cat si è svegliato Otto è arrabbiato Julie Ha un coltello È un assassino Dobbiamo nasconderci per la casa Sto cercando di nascondermi Non mi dire che ti sta seguendo Non portarlo da me Si floppa Come c'è floppa? Oh c'è un floppa Questo è il caracalla È uno dei gatti più cattivi al mondo Oh mio dio Ma perché ci sono dei quadri degli animali? Questo Smurf Cat è pazzo Che cosa ha questo? Si sta curando Ha scioppato la vita È uno scioppone Julie per ora sembra che lo Smurf Cat se ne sia andato Ma potrebbe tornare da un momento all'altro Ok dobbiamo trovare la chiave per sbloccare la porta del seminterrato E fuggire via Ce l'hai tu la chiave? Bravo Eccola qui Prova a aprire il lucchetto Ah non è quella? Sì ci serve quella gialla Ci serve quella gialla ok Questa è la chiave del lattico Allora forse con questa dobbiamo aprire il lattico Eccolo la trova da lui Perfetto siamo riusciti ad andare all'interno del seminterrato Ma probabilmente forse Smurf Cat potrebbe essere ancora qui Dov'è quel gatto puffo? Qui c'è una porta incatenata Eccola qui È questa Ci servono delle mazze Dobbiamo prenderle? Non possiamo prendere la mazza e picchiare lo Smurf Cat Perché è una specie in via di estinzione Ma a noi non ce ne frega niente L'equipaggiamo ugualmente questa mazza Anche se è una specie in via di estinzione Ragazzi ha tentato di ucciderci Dobbiamo buttarci qui di sotto Ci siamo buttati di sotto E siamo finiti all'interno di delle fogne La puzza che si sente è devastante Sì toccare queste fogne Probabilmente vi farà venire una marea di infezioni Quindi dobbiamo stare attenti A non toccare questo liquido verde Giulia abbiamo il tempo E dobbiamo sbrigarci Non dobbiamo toccare questo liquido verde Ok stiamo andando bene No non voglio toccare questo liquido verde Non voglio morire di batteri Chissà chi ci ha fatto qui la pipì e la cacca Dove sei Giulia? Ti vedo lontano Sono arrivato io Ah sei già arrivato Ok eccomi anche io sono qui Oddio Questo sembra tipo un palcoscenico Dove di solito fanno a botte Smurf Cat veniamo in pace Potremmo anche mangiarci una pizza insieme Da quello che abbiamo capito Comunque da queste informazioni Da quando abbiamo parlato al telefono Alle tre di notte con Smurf Cat Lo Smurf Cat è capace di parlare anche la nostra lingua Oh mio Dio È lo Smurf Cat Oh no ci sta guardando malissimo Ha delle mutande Ha delle mutande della uomo È un pannolino Vuole picchiarci Devi stare tranquillo Dice che lo Smurf Cat ci sta dicendo che vuole che noi siamo suoi amici per sempre Ma noi dobbiamo tornare da nostra mamma Smurf Cat Ci ha preparato i biscottini C'è la pizza stasera per cena Smurf Oh mio Dio Ci sta cercando di ucciderci Lo Smurf Cat sta cercando di uccidersi È impossessato da qualcosa Ci sta sparando con dei raggi laser Nessuno conosceva questi poteri dello Smurf Cat Questi sono i suoi fratelli Sono i fratelli Smurfini Ok uno l'ho distrutto È straballante Gli sta girando la testa Forse ora possiamo piccarlo Sì esatto Mangeremo una bella boscagliola Voi lo sapete ragazzi che la pelle dello Smurf Cat in verità non è fatta di pelle vera Ma in verità lo Smurf Cat è pieno di spore Con il quale riesce a rimanere a contatto con la terra E a rimanere in stretto legame con la natura Stai molto attento Siamo rimasti solo io e te Giulie Stai attento ai suoi raggi laser Hanno il potere di disintegrare le persone Smurf Cat Questo Smurf Cat improvvisamente ha ripreso vita E ha iniziato a lanciare un assedio di attacchi davvero davvero tremendo Io sono quasi morto Sono quasi morto Giulie Aiutami a picchiare questo Smurf Cat Improvvisamente si è risvegliato E ci ha iniziato a tirare addosso il mondo Sapevamo che i suoi poteri erano oscuri Ma questo Smurf Cat sta per morire Forse sono rimasti gli ultimi attacchi Ma i suoi amici Smurf Cat che ci sta lanciando addosso Ci stanno sgredolando la vita Picchiamoli, picchiamoli Eccolo, è stordito È l'ultimo attacco Forse siamo riusciti ad uccidere lo Smurf Cat E a ritornare a casa dalla bambina È pronta la pizza Gli è rimasta poca vita Perché non lo picchiamo? Un colpo No! Ah no si è morto È morto È morto Ha gridato lo Smurf Cat Dice Allora lo Smurf Cat ci sta chiedendo scusa E dice che voleva soltanto essere nostro amico E che non voleva essere così cattivo E che non lo sarà mai più E ci sta chiedendo scusa Il gatto Smurf Cat Beh un po' lo capiamo lo Smurf Cat È sempre così da solo Ma forse Forse mi è venuta un'idea Smurf Cat Potresti tornare a casa con noi Potresti essere il nostro animaletto da compagnia Veramente? Ci dice lo Smurf Cat Che cosa decidiamo? Possiamo decidere se lasciare il gatto buffo morire O se prenderlo con noi Io decido di prenderlo con noi Ma lasciarlo morire Ok Giuliano ha ammesso di lasciarlo morire Io ho ammesso di prenderlo con noi Vediamo quello che uscirà Ok abbiamo deciso di prenderlo con noi Speriamo che non abbiamo fatto una cattiva scelta Vediamo se lo Smurf Cat in verità È cattivo o è buono Ok Lo stiamo portando con noi Sì Smurf Cat Sarà il nostro gatto buffo domestico Ma è un bene tenere un gatto buffo domestico? Dice Ok il gatto buffo ha detto Sì Così possiamo rimanere per sempre insieme E ha fatto una risata che non Mi sembra brutta fine No No Probabilmente avremmo dovuto lasciarlo qui Questo Smurf Cat cattivo Ma noi volevamo essere buoni Volevamo tenere uno Smurf Cat domestico Va benissimo ragazzi Questa è stata la vera storia dello Smurf Cat Se vi è piaciuto lasciate like Iscrivetevi al canale E mi raccomando Non chiamate mai lo Smurf Cat alle 3 di notte Noi ci vediamo alla prossima avventura Qui su Roblox Ciao 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 Ciao